Ciao a tutti, sono Katem Nils e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostrerò come realizzare la tecnica ombre sulle unghie. Ma prima, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale e cliccate sul campanellino per attivare le notifiche per non perdervi i miei prossimi video. Ecco cosa occorre. Uno smalto bianco, due più smalti colorati, una spugnetta da make-up, la potete trovare anche su ebay a passo prezzo, base peel off, and top coat. Prima però ricordatevi sempre di stendere una base per proteggere l'unghio dallo smalto colorato e per far durare l'analarte più a lungo. Adesso stendo uno più passato di smalto bianco, dipende dalla coprenza, io in questo caso ho dato solo una passata, e lo smalto bianco serve a rendere i colori più accesi. Dopo che lo smalto si è asciugato bene, stendo la base peel off intorno alle unghie. Io uso quella di Bonpretty Store e mi ci sto trovando bene, perché se asciuga subito, si rimuove facilmente e costa poco. Dopo che la base peel off si è asciugata, stendo il primo colore sulla spugnetta, e dopo stendo il secondo colore e lo passo leggermente sopra il primo, in questo modo. Tampono la spugnetta sull'unghia, facendo questi movimenti verso destra, sinistra, su e giù. E ripeto questo passaggio altre due o tre volte, e tra una passata e l'altra aspetto uno o due minuti per far asciugare lo smalto. A questo punto, rimuovo la base peel off. E se ce n'è bisogno, uso un pennello piatto imbevuto di solvente per rimuovere lo smalto intorno alle unghie. Infine, passo il top coat. Adesso vi lascio 5 tipi di nail art che si possono fare utilizzando questa tecnica. e di un'altra aspetto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.